Mi chiamo Fabio Muscionico e sono il direttore del Dipartimento Pips di ATS della Brianza. Il Dipartimento si occupa di integrare le prestazioni sociosanitarie con quelle sociali rese dal Comune, accompagnando l'assistito e la sua famiglia durante il loro percorso di cura e di assistenza che deve essere adeguato ai loro bisogni e rispettare la loro libertà di scelta. Il paziente cronico e fragile, molto spesso anziano, presenta patologie organiche con un'importante ricaduta sull'ambiente di vita e sulle relazioni interpersonali dentro e fuori la famiglia. Tra queste patologie, le demenze, per il lungo decorso clinico e la continua ingravescenza dei sintomi, non possono e non devono essere trattate, limitandosi alla cura dei sintomi o ad interventi parcellizzati sui diversi aspetti di questa patologia complessa. In pratica, il medico di base che prescrive i farmaci, il volontario che si occupa dei trasporti, la struttura di riabilitazione, il comune che fornisce l'assistenza al domicilio, lo psicologo che sostiene i familiari della persona demente, l'infermiere di comunità, non possono che lavorare insieme, ciascuno per la propria specificità certo, ma insieme in modo integrato. Nel territorio di ATS Brianza, sia nella provincia di Lecco che in quella di Monza, esistono numerose esperienze e buone pratiche che affrontano queste patologie complesse secondo questo principio. Regione Lombardia ha anche finanziato due progetti sperimentali, uno sulla provincia di Monza e uno su quella di Lecco. A Lecco in particolare, in collaborazione con il medico di base, le persone affette da demenza e le relative famiglie vengono prese in carico con attività di ascolto, informazione, valutazione, orientamento ai servizi, supporto e addestramento anche a domicilio. Grazie per la visione!